... ... ... ... ... ... tutti questi camperi sono la piazza dei camper se te ne si è toccato il telefono quando ci sono i campiani non c'è scala perché tu hai la villa là Striking Bello beautiful Bello beautiful Bello beautiful Bello beautiful Bello beautiful Bello погuiva Bello beautiful Oh 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 Wow Oh This is the castle Oh 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 Grazie a tutti.